Ciao, sono Stefano Savini, siamo qui nel nostro privato di Cotignola. Vi presento oggi la pianta del cedro gigante. Questa pianta è una pianta di 4 anni di porti innesto, innestata da 3 anni. Produce 2-3 frutti all'anno, molto grossi, hanno delle numerose proprietà, orgonellettiche, ha la buccia molto grossa, a maturazione diventa gialla. 4 affiantati in vaso, diametro 30, perché questo è un 22, con la torba per agrumi e il concimi chicchi di sole per concimarla. Se volete acquistarla, tramite il nostro sito www.saviniivai.it oppure venite nel nostro privato di Cotignola. Ciao!